Il calendario di quest'anno è un calendario particolare perché rappresenta un po' un percorso che l'Arma fa attraverso tutte le serie di specialità e di attività che svolge per la tutela dell'ambiente e dell'agroalimentare che sono collegati, sono due aspetti collegati. È dedicato alla tutela della natura e al contrasto ai danni ambientali il calendario 2023 dell'Arma dei Carabinieri che quest'anno celebra una delle missioni che il corpo militare dello Stato svolge come attività operativa. Un calendario che rende iconici alcuni degli elementi caratterizzanti della divisa dei Carabinieri dalla mantella che diventa un'aquila alla fiamma che si trasforma in un messaggio di prevenzione degli incendi sino alla dragona a difesa del Made in Italy. Questa è la via degli orsi e conoscete bene tutta l'attività che è stata fatta dai Carabinieri forestali per la tutela di questa specie qua degli orsi soprattutto nel Trentino. Per tanti anni erano in forte rischio di estinzione, sono in corso di ripopolamento, sono protetti ed è una specie che viene osservata, viene aiutata. Le tavole artistiche sono state realizzate dalla società di comunicazione Armando Tessa con la direzione creativa di Michele Mariani e sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da Mario Tozzi. Oltre al calendario pubblicata anche l'agenda che punta a mettere in risalto la bellezza delle stagioni come dono della natura. Il calendario che ormai ha quasi 100 anni perché è dal 1928 che viene stampato adesso arriva quasi a un milione, anche più di un milione di copie è presente quasi in ogni famiglia, in ogni bar, un po' dappertutto perché è l'espressione della vicinanza tra i cittadini e i carabinieri.